Io mi chiamo Claudio Driussi, sono socio del PNLUG e stasera volevo parlarvi di Sphinx. Sphinx è un sistema per scrivere documentazione tecnica sostanzialmente. Allora, io ho fatto un piccolo progettino sul sito GitLab del PNLUG dove c'è tutto quello di cui parlerò stasera. Adesso lo metto nella chat, così se volete potete anche scaricarlo subito. Ecco fatto. Allora, adesso io appunto volevo un attimo illustrare come è strutturato questo progetto di GitLab. Praticamente ci sono tre cartelle. C'è la cartella dove sono i sorgenti della documentazione, che è questa, spero che voi vediate. Poi c'è una cartella con un piccolo progetto di prova che sarà l'obiettivo che noi ci poniamo, che è MyDoc. Infine c'è la cartella BuildDocHTML dove dentro c'è la presentazione compilata. la presentazione compilata che noi vediamo immediatamente. Un attimo, scusate perché devo fare un'altra cosa. Ok. Mi ero dimenticato di avviare la registrazione. Va bene, la registrazione parte ora. Allora, dicevo, io qui ho una cartella dove ho alcuni progetti Sphinx e qui c'è la presentazione che voi vedete che è la stessa che è qui, che io adesso lancio che sarà la mia traccia per questa discussione di questa sera. Allora, eccola qua. Allora, quindi, allora, perché la documentazione? Allora, facciamo un attimo, andiamo qui nella premessa. Allora, diciamo, perché la documentazione? La documentazione, secondo me, è una cosa assolutamente fondamentale. Cioè, senza documentazione non c'è un progetto sostanzialmente. Perché diciamo che qualsiasi progetto si faccia, sia che stiamo parlando di progetti software, ma anche non software, la documentazione è un fatto importante. Cioè, io, per esempio, dico, non so se c'è tra voi qualcuno che fa assistenza a degli utenti, voi sapete il mantra di chi fa assistenza a utenti è quello di dire, mi raccomando le copie. E quindi, diciamo, traslando questa cosa, mi raccomando le copie, io dico, mi raccomando la documentazione. Se noi facciamo un progetto, sia che sia un progetto software, che sia, ma anche che sia, che ne so, una procedura operativa o qualcosa, la documentazione è poi quello che ci aiuta poi a dire che abbiamo fatto qualcosa, altrimenti è scritta nella sabbia, sostanzialmente. Ecco, allora, per fare la documentazione si può fare in tanti modi. Il primo modo più semplice di tutto è quello di scrivere un testo. Io, per esempio, quando, non so, devo abbozzare delle idee per le cose che faccio, la prima cosa che faccio scrivo del testo. E preferisco, personalmente, c'è qualcuno che fa in modo diverso, io personalmente preferisco scrivere testo semplice. Allora, io qua già ho messo qualche link, per esempio, nel corso degli anni ho usato tanti editor, ecco, vabbè, lì poi c'è tutta una discussione per quanto riguarda gli editor testuali, quelli basati su interfaccia carattere, c'è chi usa UI, chi usa Emacs, chi usa Nano e così via. Ma naturalmente, sviluppando software, di solito si sviluppa in GUI, ultimamente quello che preferisco è questo, Visual Studio Code. Visual Studio Code, che è un progetto open source sviluppato da Microsoft, ed è, diciamo, non solo un editor di testo, ma anche una IDE per molti linguaggi. Stasera io lo userò per farvi vedere i sorgenti della presentazione. Poi c'è qualcuno che usa, per fare la documentazione, ad esempio, editor non di testo, ma, diciamo, che fanno formati binari, tipo LibreOffice o Scribus. Ecco, io preferisco di no, nel senso che io, se devo scrivere anche dei testi così, preferisco sempre che siano dei testi semplici, in modo che sono molto portatili. Ecco, secondo me, un'altra cosa importante è che ultimamente, ultimamente, diciamo che, è bene che, se io scrivo una documentazione, fosse fruibile, se fosse in HTML, e quindi fosse fruibile da web, insomma, no? E quindi, diciamo che, è un punto a favore se un testo, diciamo, è fruibile da web, perché lo posso portare dove voglio. Ecco dove c'è il problema, per esempio, con i formati binari, perché i formati binari, è vero che possono, in qualche modo, esportare nel web, ma i risultati, mediamente, sono scadenti, diciamo, no? Ecco, allora, HTML non è difficile, ma non è neanche proprio così semplice, sostanzialmente, no? Cioè, perché, sì, è vero, non è complesso, ma bisogna rispettare delle regole, quindi, per esempio, i tag di entrata, i tag di uscita, e cose così, no? E quindi, se, cioè, io, se devo scrivere dei documenti, molte volte non vorrei concentrarmi sulle specifiche del linguaggio, ma su quello che devo dire, no? Allora, diciamo, per venire a questo, incontro a questo, ci sono dei linguaggi intermedi. Il più famoso di tutti è assolutamente Markdown. Markdown, molti di voi, ovviamente, lo conoscono, è comunque un testo semplice, adesso vediamo se riesco, magari, intanto lancio il mio progetto, diciamo, aspetta, eccolo qua, apro, Sphinx, apri con Visual Studio Code, ecco qua, e quindi adesso apro il mio Visual Studio Code, così vediamo un esempio di testo scritto, aspetta, aspetta che provo a aumentare il carattere, ok, ok, bene, 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 ok, qua, diciamo un po', ok, così si vede bene, spero, insomma, no? Ok, allora, quindi, se andiamo a vedere un tasto Markdown, ad esempio, io qui ho, eccolo qua, eccolo qua, test MD, dove semplicemente io ho una sintassi che mi semplifica la vita, per esempio, questo è l'equivalente di un H1 di HTML, no? Io semplicemente metto un asterisco, invece, se scrivessi HTML, dovrei scrivere così, quindi H1, e poi chiudere di nuovo con slash H1, ecco, così è come si scrive in HTML, no? Quindi, direi che è molto più comodo usare la prima sintassi, sostanzialmente, no? Ok, bene, e quindi adesso questa cosa qui, ecco, bene, allora, e quindi dicevamo, io non ho feedback, spero che per adesso sto andando bene, insomma, ecco, quindi, così, insomma, va bene, e allora, e quindi dicevamo, tutto lineare Claudio, va bene, perfetto, magnifico, grazie, ok, allora, quindi dicevamo, quindi Markdown, e poi c'è RST, Restrutture Test, no? Allora, quindi questo qua, per esempio, è il sito di Markdown, eccolo qua, no? Che è una serie di dialetti, è molto semplice, poi c'è RST, che in realtà è Restrutture Test, è più vecchio di Markdown, è stato scritto prima, però, oh, come cosa succede qua? RST? Oh, mamma mia, il bello della diretta si dice, giusto? Eccolo qua, va bene, bene, no? Ecco, è stato scritto prima, però non è, diciamo, forse tra i due, Markdown è leggermente più immediato, intuitivo, ma comunque Restrutture Test è semplice, lo stesso, tant'è vero che se io vado a vedere, sempre nel progetto che vi facevo vedere prima, un file scritto in RST, per esempio, che ne so, una roba così, no? Cioè, anche qua è semplice, cioè, diciamo che la differenza, ma dopo non ne parliamo, no? È che, per esempio, questa qua è un H1, che è l'equivalente di quello che avevamo visto prima in Markdown, no? Ecco, e quindi, e quindi, sì, cioè, non è complesso, no? Il vantaggio, è sempre la stessa cosa, cioè, il vantaggio è quello di fare un testo che sia più facilmente leggibile, leggibile rispetto al testo HTML, e questo lo vediamo immediatamente, per esempio, se io vado a vedere su questo file qui, vediamo se, ecco qua, se vado a vedere Page Source, questo è il sorgente, diciamo, il sorgente RST di questa pagina, no? Invece, se vado a vedere il sorgente HTML, visualizza il sorgente pagina, come vedete, è ben meno leggibile, insomma, no? A parte il fatto che è una pagina costruita automaticamente, non scritta a mano, però uguale, insomma, cioè, è ben più così, insomma, no? E quindi questo, no? Allora, dicevamo quindi che ci sono appunto dei linguaggi intermedi, io conosco Markdown e RST, ma probabilmente ce ne saranno anche altri, ma, diciamo, la fanno da padrone, soprattutto Markdown è super diffuso, RST un po' meno, ed è soprattutto diffuso con Sphinx e poi fra poco vedremo il motivo, insomma, no? Ecco, vorrei citare un'altra cosa che è Pandoc, Pandoc è un sito, ed è un software che praticamente, apri una nuova scheda, che, diciamo, permette la conversione tra vari formati, per esempio, permette la conversione tra, diciamo, Markdown, REST, ma anche HTML, ma anche LibreOffice, ma anche Word, fra virgolette, noi non ci interessa, no? Però, ok. Bene, no? E quindi, diciamo che, questo è interessante, dopo vedremo un piccolo caso pratico, sostanzialmente, no? Ecco, ecco, chiaramente quando si fa una conversione è ovvio che, diciamo, c'è sempre una perdita, no? Quindi se io passo da A a B ho una piccola perdita di significatività e poi, se poi ritorno da B ad A ho un'altra perdita, no? Perché chiaramente è sempre una cosa che va al minimo, no? Ecco. E quindi abbiamo detto, perciò abbiamo detto, meglio, allora, per fare documentazione tecnica, quindi, no? Per fare documentazione tecnica, meglio il web, meglio linguaggi, diciamo, appunto, metalinguaggi più facili da scrivere, no? Ok. Ecco, oltre a questo ci sono altri sistemi, per esempio ci sono i generatori di siti statici, di cui Stefano ci parlerà fra qualche giorno, sostanzialmente ci parlerà di Yugo, no? Io l'ho citato perché è interessante, diciamo questo, cioè, per esempio, tra Yugo è un ottimo sistema per fare siti statici e poi vi verrà spiegato il motivo per cui è interessante usare Yugo, quindi i siti statici piuttosto che usare il famoso Wordpress, per esempio, no? Ecco, quindi diciamo che Yugo può essere un sostituto di Wordpress, quindi ci permette di fare siti esteticamente gradevoli con molti temi e avanti così, diciamo, no? Ecco, fra l'altro ce ne sono altri sistemi anche di siti statici, no? Cioè, diciamo, uno dei più storici era... boh, non lo vedo neanche... aspetta... comunque ce ne sono parecchi sostanzialmente. Tra i vari siti statici c'è anche il nostro Sphinx, eccolo qua, no? Ecco, perché in realtà è un generatore di siti statici. Siti statici significa che non c'è un motore dietro ma basta fare doppio clic sul file HTML e viene su tutto il sito sostanzialmente, no? Ecco, no? Ecco, e quindi così. La differenza è che appunto Yugo ed altri generatori di siti statici sono orientati al web e quindi diciamo a fare delle pagine web accattivanti con varie funzionalità, no? Mentre invece Sphinx è un sistema più orientato alla documentazione, cioè al proprio interno ha delle funzionalità che servono per, diciamo, proprio per fare documentazione tecnica e quindi ha degli automatismi per la gestione degli indici, per la gestione dei glossari e tutta una serie di automatismi che lo rendono particolarmente adatto a questo. Allora, Sphinx è un'applicazione scritta in Python, no? Ecco, e quindi è naturale e che sfrutta fra l'altro delle librerie proprio native della libreria standard di Python, quindi diciamo si appoggia a questa libreria nativa per costruire della documentazione, tant'è vero che se non ricordo male, ma non vorrei sbagliarmi, la documentazione stessa di Python è scritta in Sphinx, forse no, ma comunque insomma siamo molto vicini, diciamo, quindi è naturale che sia molto usato in ambiente Python, quindi per pubblicare e librerie Python, ma non è così, non è solo così, cioè diciamo che in realtà diciamo va molto bene anche per fare, per fare, diciamo, documentazioni di tutti i tipi, no? Per esempio questo qua, questa è la pagina di Sphinx, che adesso andiamo a vedere qua, eccola qua, no? Quindi questa qua è la pagina della documentazione di Sphinx, no? Ok, ecco qua, e tra le varie pagine dopo navigheremo un po', ci sono come vedete un bel po' di esempi di pagine e non tutte parlano di Python sostanzialmente, no? E quindi per esempio, vabbè, vediamo un attimo se troviamo qualcosa, ma non abbiamo tante cose da dire, perciò, ma lasciamo stare, ecco, no? Magari ve le vedete voi con calma, ecco, no? Mi piaceva farvi vedere anche questo, che è Read the Docs, Read the Docs è un, diciamo, un sito dove è possibile, diciamo, pubblicare le nostre documentazioni e diciamo che la maggior parte, ed è praticamente, usa di default, usa Sphinx per la documentazione, tant'è vero che, diciamo, la gran parte delle documentazioni, diciamo, delle librerie Python che noi troviamo, per esempio, qui, io apro siti a manetta, ecco, no? Dopodiché qualche link c'è, ma se dopo avete qualche domanda, ben volentieri, insomma, approfondiamo, e quindi preferisco andare veloce perché cose da dire ce ne sono. Per esempio, PyP, questo è il sito di default delle documentazioni di Python, cerchiamo una cosa, per esempio una libreria, che ne so, questa mi piacerebbe, allora, PyP, che è una libreria che io uso un pochino, eccola qua, no? Ecco, se noi andiamo a vedere la documentazione, allora, Documentation, eccola qua, ok, e qui siamo su Read the Docs, e questa è una pagina tipica di Read the Docs scritta in Sphinx, quindi questo qua è quello che voi riuscite a ottenere con Sphinx, quindi come vedete, diciamo, ben evidenti le righe dove ci sono dei testi e avanti così, insomma, no? Quindi il suo menu, le sue robe, e vediamo se si riesce, eccolo qua, vediamo un po', perché un'altra delle particolarità molto interessanti di Sphinx è che, adesso qua non riesco ad andare sulla pagina, vediamo un po', ok, ecco, vedete, diciamo che se le cose vengono configurate in modo opportuno, io posso produrre dei PDF automaticamente dallo stesso sorgente e sono PDF di una certa qualità, ok? Quindi con l'indice, con le pagine, tutto quanto, quindi con la stessa documentazione con cui è stato fatto il sito, ho anche un PDF, un libro, un libro che si legge bene per essere una documentazione tecnica, ok? Quindi ecco per cui, questo è il motivo per cui è interessante Sphinx, allora a questo punto vediamo come si usa, e quindi io vado qui, vado nella pagina successiva, installazione di Sphinx, allora adesso io passo passo, non faccio altro che fare copia e incolla di queste cose qua, allora quindi adesso io vado nel mio terminale, ecco, allora diciamo questo, io adesso vado a bomba, cioè non vi spiego niente di tutte queste cose qua, cioè diciamo che per far girare Sphinx si usa a riga di carattere e è una libreria Python che ha, diciamo, un'applicazione che si può lanciare da riga di comando per fare tutto quello che serve, diciamo, no? Ecco, e quindi bisogna preparare un ambiente basato su Python, no? Ed è quello che noi facciamo adesso, quindi io adesso apro il mio terminale, ok? Apro il terminale e do questi comandi che a me non faranno niente perché io queste robe ce le ho già tutte, quindi apt install python3, quindi verifichiamo se, allora, poi un'altra seconda cosa è questa, io vi sto facendo vedere le cose su Linux, io uso Linux Mint che praticamente è un, diciamo, un equivalente Ubuntu, no? Ecco, e diciamo che però se voi usate Mac o Windows le cose sono leggermente diverse ma sono molto semplici lo stesso, no? Quindi allora installiamo Python3, ok? Bene, e lui mi dice che c'è già, poi installiamo, installiamo, fidatevi c'è tutto, eh? Potrei anche saltare perché tanto c'è tutto, comunque dai, diciamo che c'è tutto, ok? E avanti così, no? Anzi, vediamo se riesco ad aumentare l'ingrandimento qua, allora, control più, eccolo, bene, così si vede un po' meglio, ok? Bene, diciamo che c'è tutto, invece a questo punto noi, diciamo, andiamo a costruire, a fare il nostro primo progetto e quindi siamo, siamo nella mia, io adesso sono sulla mia home del mio portatile, faccio una cartella di nome SphinxDoc, ok? Poi entro nella cartella CD SphinxDoc, ok? Adesso sono dentro sulla cartella del progetto e faccio un ambiente virtuale per fare in modo che tutto quello che io scarico da internet rimane in questo ambiente protetto e quindi non va ad influire con altre, con altre librerie che ho da altre parti, con le librerie di sistema, ecco qua, quindi attivo il mio ambiente protetto che si chiama virtualenv in ambiente Python, ok? Benissimo, adesso io qui davanti vedo la scritta venv, significa che in questo momento io sono nell'ambiente virtuale di Python, ecco qua, quindi adesso uso dei comandi tipici di Python per installare le librerie, ok? Bene, ok? Ecco qua, adesso a questo punto, beh, posso fare per esempio Python meno meno version e vedo che sono su Python 3, mentre il default per il momento è ancora Python 2.7, quindi effettivamente sono dentro in un ambiente virtuale, installiamo Sphinx, quindi si fa semplicemente così, pip install Sphinx, pip install Sphinx, non fa altro che andare a scaricare da questo sito che avevamo visto prima, che è, che è, che è, che è, forse qua, vediamo un po', che era PyPy, eccolo qua, PyPy, no? E quindi questo è, diciamo, il sito dove, dove vengono depositati, dove vengono pubblicate le librerie di Python e con pip noi andiamo a scaricare da questo sito le varie librerie e quindi abbiamo installato Sphinx, lui aveva delle dipendenze, ha scaricato tutto quello che gli serviva, adesso scarichiamo anche qualche cosina di altro, qualcosa di diverso, adesso sono le 21 e 28, io dovrei stare entro le 10, quindi sapevo che il tempo era poco, ma si sa, ok, adesso installo altre cose che ci serviranno dopo, per fortuna diciamo che tutto quello che io adesso vi sto dicendo lo trovate nel progetto, quindi se non riusciamo proprio a dire tutto tutto, i dettagli andiamo a vederli lì e magari dopo dedichiamo un po' di tempo alle domande e risposte, perché questo è sicuramente importante, aspettate che vado a vedere se sto registrando, sì, sì, sembra di sì, dai, altrimenti, va bene, ok, bene, allora, di nuovo, perciò abbiamo installato tutto quello che ci serviva, a questo punto, diciamo che io sono dentro sul progetto, ma se esco poi, qua c'è scritto come fare per rientrare, cioè non è che devo ricostruire tutte le volte i dati, insomma, ecco, a questo punto facciamo il nostro progettino MyDoc, quindi facciamo un nuovo sito di documentazione, ok, dopodiché entriamo, ok, e arriviamo al punto nodale che è questo qua, Sphinx QuickStart, Sphinx QuickStart, cioè noi installando Sphinx abbiamo installato una utility che si chiama Sphinx, dopo ce ne sono altre, non so se io scrivo qua, no, scusa, eh ma che, scrivo o non scrivo qua, ok, come vedete ce ne sono diverse, insomma, ecco, però dai, QuickStart, ok, QuickStart mi fa un progetto vuoto, ok, eccolo qua, allora adesso mi chiede un po' di cose, adesso il colore non aiuta, comunque dice, possiamo rispondere di sì a tutto, nome del progetto, facciamo la mia documentazione, facciamo dai, il mio tolto, così, ok, bene, perfetto, autore, io, release del progetto, facciamo 0.1.0, linguaggio italiano, e basta, abbiamo fatto, a questo punto cosa è successo, ve lo faccio vedere, eccolo qua, andiamo sulla mia home, c'è la mia cartella Sphinx Dock, dentro c'è il Virtual Environment, e poi c'è MyDoc, che è il mio progetto, come vedete, diciamo che lui ha fatto un po' di cose, no, ha fatto un po' di file, no, il primo file che ha fatto è, diciamo, c'è anche, quindi, l, l, ecco qua, c'è anche un Makefile, no, se voi conoscete il sistema Make standard di, c'è anche Makebat, quindi questo qua per gli utenti Windows, no, comunque se conoscete il sistema Make standard di Linux Unix, Makefile mi permette di fare un build, quindi se adesso io faccio, scrivo solo Make, ovviamente dovrete fare, se non ce l'avete già, dovete fare, apt sudo, apt install make, perché non è installato di default, io ce l'ho già, ok, se adesso io scrivo solo Make, ok, ecco lui mi dice, diciamo, sì va bene Make, ma che cosa vuoi fare? Ho la possibilità di fare, diciamo, documenti in tutti questi formati, no, ecco, il più normale, il più semplice è HTML, quindi se io adesso scrivo Make HTML, ecco fatto, lui fa, questa è la sua compilazione, e quindi, se io adesso vado nella cartella, vedo, intanto vi faccio vedere, aspetta un attimo, intanto, adesso apro, apro questa cartella con Visual Studio Code, ok, così vi faccio vedere quello che c'è dentro, ok, adesso c'è 100.000 finestre aperte, come sempre, dopo bisogna provare quelle giuste, ok, bene, allora, mydoc, andiamo a vedere, no, eccolo qua, questi qua sono i file che abbiamo visto un attimo fa, no, allora, diciamo questo, allora, make file, eccolo qua, questo è il make file, ah, ma vabbè, ok, una volta si vedeva direttamente da qua, invece, adesso è diventato un po' più evoluto, e quindi, una volta si faceva vedere come faceva il build di tutte le cose, ma insomma, 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 va bene, e torniamo qui, benissimo, allora, abbiamo fatto il nostro, il nostro file make, no, e quindi lui ha fatto di suo, dentro una cartella che di default è la cartella mydoc build.html, qua dentro, ha fatto il progetto che è il mio progetto vuoto, index, ecco fatto, questo è il mio talk, quindi, welcome to il mio talk documentation, indici e tables, qua c'è l'autore, powered by Sphinx, page source, no, indice, adesso qua non c'è niente, indice dei moduli, addirittura non va neanche, cerca, ma non cerca niente, e quindi ovviamente è un progetto vuoto, no, allora, andiamo a vedere, andiamo a seguire di nuovo la mia documentazione, eccola qua, e quindi siamo arrivati a make, make.html, e abbiamo lanciato, ecco, allora, adesso diciamo che vorrei parlare per la seconda volta di markdown, e poi ne parlerò anche un attimo fra un po', no, allora, adesso proviamo a scrivere un testo di questo tipo qua, cioè io vado, beh, intanto installo pandoc, io ce l'ho già, ma comunque è solito, sudo apt install al pandoc, adesso io scrivo questo testo qua, che quello che, anzi, facciamo così, aspetta, vediamo così, magari faccio il copia e incolla dalla cartella della, ok, appunto, my doc, eccolo qua, va bene, dai, la copio da qua, dove, test md, eccolo qua, copia, adesso vado di qua, e lo copio qua, benissimo, e quindi se vado qui, vedo che c'è, se ho fatto giusto, chissà, ah, my doc qua dentro, no, no, è giusto, e dove l'ho messo io, che testa, ah, sì, giusto, scusate, qui, qua, qui, ok, e allora, eccolo qua, e quindi questo era il nostro testo che avevamo visto prima, sostanzialmente, no, ok, allora, voglio, visto che ci sono, voglio farvi vedere anche pandoc, come funziona, no, e quindi, se io torno qui, torno qui, e faccio questa cosa qua, scrivo pandoc test, ok, bene, allora, quindi, lancio il programma pandoc, che io ho già installato, ma voi forse dovrete installare, e gli dico, il sorgente che si chiama test MD, come output voglio converted RST, ecco fatto, quindi lui a questo punto avrà fatto, vediamo un po' se è vero, avrà, diciamo, convertito, eccolo qua, converted RST, quindi diciamo che questi due file, vabbè, ok, questi due file sono equivalenti, no, quindi questo qua, questo, che è il file RST, e questo, che è il file markdown, sono equivalenti, in questo caso, la cosa, install, va bene, sì, ok, va bene, chi se ne prega, ok, boh, e in questo caso, sono testi, è un testo talmente semplice, che è chiaro che è abbastanza facile, bene, perfetto, ok, no, e quindi, e quindi, diciamo, diciamo così, molto bene, a questo punto, vediamo subito, seguiamo di nuovo la traccia, vediamo un po' dove eravamo arrivati, ecco, quindi, abbiamo visto che, che con, ah, ecco dopo, come vi dicevo, poi c'è, quindi io posso riconvertire nuovamente, nuovamente il file da, diciamo, da RST di nuovo a markdown, è leggermente diverso, fidatevi, ma niente di che, infine posso anche fare direttamente, fare un, come dire, un file HTML, perché poi alla fine lo scopo sia di markdown che di RST è quello di generare HTML, eccolo qua, adesso, di fatto, se adesso io vado a vedere, lui mi avrà fatto, mi avrà fatto un file HTML, eccolo qua, no, e questo è l'HTML, capite bene che scrivere direttamente in questo modo e scrivere così, oppure così, è ben diverso, insomma, ecco, è molto più comodo imparare queste piccole sintassi di markdown o di RST, piuttosto che scrivere direttamente in HTML. Bene, allora, la seconda parte del, diciamo, della cosa è questa qua, allora, proviamo a questo punto, proviamo a, ecco, a fare una pagina, allora, andiamo a vedere una cosa, no, e siccome sono già le 21 e 40, mi sa che non avrò tanto tempo per fare le cose, adesso faccio solo una prima pagina molto veloce e dopo vi faccio vedere le cose già fatte, perché altrimenti non abbiamo tempo di parlare delle altre e quindi è un po' un peccato, insomma, no, ecco, anzi, sì, beh, dai, facciamo questo, lo facciamo, allora, andiamo qui, andiamo, perciò, eccolo qua, adesso, torniamo nel, ecco, questo l'index RST è quello che ci aveva preparato automaticamente Sphinx, c'è un commento, c'è un welcome, eccetera, qua invece di welcome scriviamo benvenuti a il mio tomo, ok, qui c'è questa sintassi, praticamente questa sintassi di RTS, di ristrutture test che però diciamo che Sphinx, cioè il RST è più elaborato rispetto a Markdown, ha la possibilità, dopo non so perché probabilmente magari anche in Markdown ci sono delle cose, però diciamo che RST ha la possibilità di essere espanso con queste che sono delle direttive, praticamente questa è una direttiva che dice che io vado a includere dentro nel testo, no, che gli dico che in questa posizione voglio l'albero delle directory, no, e quindi gli dico di quale profondità andare, eccetera, eccetera, adesso andiamo di qua, eccolo qua, e vediamo che facciamo così, tanto adesso qua preparo un'immagine, ok, dopo la devo copiare perché altrimenti sembra un errore forse, ok, e poi questa è la cosa importante, allora io qui ho un file che si chiama convertedmd, no, io inserendolo in questa posizione, allineato con il resto, gli dico guarda che questo fa parte della documentazione di Sphinx, ok, quindi aggiungo questa pagina, aggiungo questa pagina a Sphinx, adesso aspetta che copio questa immagine, che così la vediamo subito, allora, eccola qua, questa è l'altra, vediamo Static, eccola qua, copia, adesso andiamo di qua, MyDoc, Static, e in colla, molto bene, ecco, allora se adesso ho fatto tutto giusto, io sono in grado di compilare, e quindi torniamo a fare, MakeHTML, Checking Consistente, Warning, ah, vabbè, questo mi sta bene, cioè mi dice, guarda che c'è un, is included made in top 3, e quindi, cosa ho fatto, scusate un attimo, può darsi che, sai, nessun cosa, allora, ah, eccolo qua, ma l'ho salvato, ah, non l'ho salvato, vediamo un po', se è così, dopo, è ovvio che voi sapete bene, ah, ecco, è andata a buon fine, eccolo qua, no, e quindi lui ha ricompilato, buona la scusa, così vediamo che, praticamente, lui, diciamo, fa anche dei controlli, no, e quindi se ci sono degli errori nelle pagine, ci possono essere, appunto, o dei warnings, oppure degli errori proprio, in questo caso, dopo che io ho salvato la pagina, è andata a buon fine, lui ha compilato tutto, e adesso andiamo a vedere, e quindi adesso io vado sulla mia pagina, qui mi pare, guardo qui, eccolo qua, oh che bello, eccolo qua, no, ecco, e come vedete, io a questo punto, la cosa interessante, come vedete, ho un, ho qui il contenuto, quindi se io faccio clic qua, vedo il mio testo, che è quello che avevamo visto, ok, e anche qui, dunque, prova di un testo, come vedete, è così, no, ok, allora, diciamo che è orientato alla documentazione, di fatti, dove ci sono dei campi che sono dei comandi da digitare, oppure dei pezzi di sorgente, vedremo fra un po', no, vengono evidenziati per bene, no, ecco, e qui, per esempio, se io torno nel progetto, no, vado a vedere che, allora, vado a vedere che, eccolo qua, converter st, come vedete, questa sintassi, no, due punti, due punti, e poi indentato, tutto quello che c'è dopo i due punti, due punti, ed è indentato, per lui è un testo, diciamo, è un, è un testo che deve, che è di codice, sostanzialmente, no, ecco, bene, molto bene, allora, adesso, io avevo preparato nel mio progettino, che dopo, senza che lo sto a riscrivere, perché sennò andiamo lunghi, no, qui, io avevo, avevo, avevo fatto un qualcosina in più, cioè, il progetto è simile a quello che abbiamo fatto, ma un attimino più sofisticato, adesso ve lo faccio vedere così come sta, e dopo, magari, andiamo a commentare direttamente i sorgenti, andiamo, ecco qua, build, html, e andiamo in index, ecco, diciamo, questo, questo che io vi faccio vedere, intanto, come vedete, ho cambiato il tema, e ho preso lo stesso tema di Read the Docs, no, che è quello del sito delle documentazioni standard di Python che avevamo visto prima, no, e poi ho messo alcune cose che sono delle piccolezze, ma sono molto utili, cioè, queste veramente sono un quick start per chi si avvicina a Sphinx, perché se vedete la documentazione standard di Sphinx è abbastanza importante ed è, come vedete, sì, cioè, diciamo, magari, non lo so, cioè, uno si potrebbe anche perdere, se dico io cerco quelle quattro cose utili, io ho cercato di darvi le quattro cose che sono state utili per me, poi non so se sono anche utili per voi, no, comunque, ecco qui, no, come vedete c'è la possibilità di inserire immagini, questo qui che sono le cose di Creative Commons, io le ho messe, diciamo, su tutte le pagine, no, come vedete c'è su tutte le pagine, quindi, praticamente, io posso dire nel file di configurazione, posso dirgli c'è un prologo, un epilogo e portalo, riportalo su tutte le pagine, purché non siano, non siano di Markdown, perché, diciamo, Sphinx può anche importare pagine Markdown, però non è bravissimo a farlo, no, perché, appunto, diciamo, Markdown riesce a gestire solo la sintassi senza, senza però gestire, senza però gestire, gestire, diciamo, tutti gli automatismi che invece sono disponibili in REST, no, per esempio, ecco questa qua, questa pagina, diciamo, RST, diciamo così, questa invece è l'equivalente pagina Markdown, però come vedete, diciamo che non ha, per esempio, non ha il piede sostanzialmente, no, eccolo qua, e quindi si usa però, è un po' meno ricco, cioè, se volete usare Markdown con Sphinx è perché, o perché lo condividete con altri sistemi e quindi vi fa piacere condividere dei file scritti Markdown senza toccarli, oppure perché ce li avete già, quindi voi avete già un pacco di documentazione Markdown, non avete voglia di convertirlo e quindi lo lasciate così com'è e lo buttate dentro su Spins, no, ok, bene, quindi dopo se avanza un po' di tempo magari andiamo a vedere qualcosina di questo, ma andiamo avanti, no, ecco qua, ecco, allora, ah, ecco qua un'altra cosa, no, chiaramente, allora io vi farei una domanda, secondo voi, qual è la migliore, la documentazione di Sphinx scritta più bene? Ovviamente la documentazione di Sphinx stesso, no, ok, no? Ecco, per far questo, se voi andate sulla pagina GitHub, scaricate la pagina GitHub e poi andate a compilare con questi comandi che io adesso replico e lo faccio in un istante perché ci metto pochissimo, ok, vabbè, non lo faccio neanche, ecco qua, per esempio, se io, perché dovrei, forse sì, allora, Sphinx, ecco qua, ok, apri il terminale, ecco, adesso sono entrato nel virtualenv di questo progetto, cd, Sphinx, meno 3, ok, l, l, questo qua sono i sorgenti di Sphinx, scaricati da GitHub, cd, doc, ovviamente, questo è un progetto, è un progetto Sphinx e quindi adesso io cancello, vado qua dentro, cancello la cartella, la cartella build e ritorno qui e faccio un bel make HTML, ok, qui le pagine ne sono un po' di più, e quindi come vedete ci impiega qualche secondo, ok, ecco fatto, adesso sta scrivendo le pagine, chiaramente carica tutto in memoria, risolve tutti i link interni, esterni e così via, ecco fatto, hanno fatto un errore anche loro, molto bene, ecco qua, adesso io ho ricostruito la documentazione di Sphinx, se vado qui, HTML, index, eccolo, ecco qua, la documentazione di Sphinx compilata sulla mia macchina e quindi è ovviamente qua, insomma, se volete conoscere tutti i trucchetti ci sono, però ecco, quello che mi faceva piacere era che come vedete in un'oretta abbiamo già fatto qualcosa di utile, no, nel senso che già ci ha dato modo di incominciare a scrivere delle documentazioni in modo produttivo, quindi voglio dire, è vero che ha tante opzioni, però si può... ok, quindi si può... stavo leggendo i vostri commenti, quindi mi sto distraendo, ok, e... vabbè, insomma, e quindi diciamo, possiamo, ecco, quello che volevo dire è che noi siamo immediatamente produttivi con Sphinx, siamo lunghini, allora ruberò dieci minuti o mi sa, perché altrimenti non riesco a parlare di tutto, allora, passiamo avanti, allora, beh, una cosa qui, questo qua è ovviamente scritto in Sphinx, come vedete, no, se vado a vedere il sorgente di questa pagina, no, ecco, vedete, queste sono le varie intestazioni con vari livelli, con i vari cosi, eccetera, no, ok, quindi questo per esempio è un sotto... è una intestazione di secondo livello, eccetera, no, ok, e corrispondono a quello che mi trovo direttamente qua, quindi è comodo, no, perché ho già l'indice, già fatto, sostanzialmente, ecco, allora, adesso andiamo avanti e vediamo come si scrive in RST, no, quindi abbiamo detto che scrivere in RST non è difficile, è molto simile a Markdown, insomma, ecco, no, ecco, allora, io qui diciamo che le cose sono poche, perché corrisponde un attimino a quelle che sono le cose in HTML, cioè in HTML cosa abbiamo? Abbiamo, beh, la prima cosa è sempre i commenti, no, quindi commentare non è mai sbagliato, per commentare si fa punto punto, e poi tutto quello che si scrive indentato alla colonna è commento, quindi se voglio escludere una parte di testo perché lo devo revisionare, oppure se voglio scrivere qualcosa, io faccio un commento, no? Ecco, allora, le intestazioni, diciamo, sono diverse da Markdown, secondo me sono anche un po' più leggibili, forse, se vogliamo, però, vabbè, così, no? Allora, praticamente le intestazioni si fanno sottolineando il testo che io voglio intestare, praticamente, no? E il tipo di linea mi dà il livello di indentazione, quindi, per esempio, se io ho scelto di fare delle linee con dei meno per H1 e poi con degli uguali per H1, i meno per per H2, i più per H3, quindi io qua ho due linee H3, poi ritorno ad H2 e poi di nuovo ad H3, ok? Quindi queste sono le intestazioni, no? Ecco, i paragrafi, i paragrafi, diciamo che sono tutto quello che non è separato da una riga vuota, quindi praticamente io qui ho un paragrafo, il paragrafo finisce perché ho una riga vuota e poi un altro paragrafo indentato. Ecco, qui c'è una differenza con Markdown perché in Markdown l'indentazione automaticamente permette di scrivere codice, diciamo, no? Mentre invece in RST ho dei paragrafi indentati. Poi ci sono degli elementi tipografici, quindi abbiamo il corsivo, grassetto e il codice di emissione fissa, no? Ok, e quindi di più non c'è, è la stessa cosa che abbiamo anche in HTML, anche là abbiamo il corsivo, grassetto e così via, no? Il sottolineato non c'è perché probabilmente andrebbe in conflitto con i link, siccome il sottolineato indica i link, quindi per non, così, meglio non usare, insomma, ecco, no? Poi ci sono le liste, ci sono tanti tipi di liste che voi potete andare a vedere nella documentazione, no? Ok. Bene. Ah, sì, allora, Andrea mi chiede se esiste un editor Wising for Markdown o per RST, probabilmente non credo, però diciamo che Visual Studio Code stesso, diciamo, permette, vediamo se questo, forse qui no, forse non riesco perché ho fatto un'installazione molto veloce, eccolo qua, però eccolo qua, per esempio, vediamo un po' se, boh, non riesco, ah, eccolo qua, sì, 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 eccolo qua, ah, ecco qua, vabbè, c'è qualche problema, no? Però diciamo che mi permette di avere comunque un'anteprima, l'anteprima c'è, ok, allora andiamo, torniamo dove eravamo, sì, quindi abbiamo detto ci sono tanti tipi di liste, numerate, puntate, eccetera, eccetera, ci sono vari modi per fare le tabelle, i link, diciamo che io posso fare, o posso mettere direttamente l'indirizzo senza niente e lui automaticamente lo gestisce come link, no? E invece, ah sì, no, scusa, ci sono i link interni e i link esterni, i link interni servono per puntare alla documentazione stessa, no? E hanno delle direttive specifiche, insomma, ecco, quindi io vi leggete questa cosa qua e dopo parlo anche delle direttive e quindi vedete così. Comunque, quindi io ho dei link interni, mentre invece i link esterni, no? Io posso o mettere direttamente l'indirizzo così e quindi io poi lo leggerò così, no? Quindi leggo qua. Oppure posso mettere il testo specifico e quindi se io faccio, aprice retroverso, poi metto il testo che voglio vedere, che voglio vedere, poi uno spazio e fra parentesi gli angolari, metto il, diciamo, l'indirizzo e chiudo e chiudo e poi metto un simbolo di scettolineato, questo è un link esterno, no? Ok. Bene, dei blocchi di codice abbiamo visto prima, no? Abbiamo visto prima i blocchi di codice e quindi abbiamo detto che metto due punti, due punti e poi vado ad indentare, no? Ecco. E quindi questo è per quanto riguarda la parte tipografica. Per la struttura del progetto, come dicevamo prima, no? Io ho TalkTree che mi permette a tutti i livelli, attenzione, cioè non solo nella home page, no? Perché qua abbiamo visto, per esempio, se io vado qui, qui ho, diciamo, anzi vado di qua, guarda, guarda, ok, eccolo qua, vediamo un po', sì, ecco, vediamo un po', questo qua, SphinxDoc, sì, MyDoc, ecco, come vedete questo qua è l'esempio che io, che voi troverete poi nella cosa, no? Ecco, allora, se io vado a vedere questo index qui, index RST, come vedete ci sono, ah, ecco, no, questo qua addirittura è quello della sottosezione, ecco, questo qua è l'indice, è l'indice generale, no? E quindi io gli dico che ho un testo, che ho un altro testo, che ho un testo dentro a una sottodirectorie, no? Quindi se io vado dentro nella mia sottodirectorie, che si chiama sezione 1, io qui ho degli altri file, ho questo index, il quale a sua volta ha un altro top tree, e va a prendere due, che va a prendere due pagine, ok? Bene, andiamo avanti, quindi abbiamo detto così, no? Ecco, e quindi io vado a strutturare il progetto inserendo pagine nei top tree di tutto il mio, di tutto il mio sistema di documentazione, no? Poi ci sono altre cose, indice generale, indice dei moduli e così via, no? Ecco, RST permette di gestire roles, direttive e domains, no? Ecco, qui c'è spiegato questa cosa qua, per esempio le regole, no? Sono delle regole che io qua ho spiegato delle robe, per esempio questo è un replace, no? se io posso mettere qui, ma dopo lo vediamo, insomma, no? Ecco, quindi ci sono delle direttive, delle regole che sono spiegate, cioè se io vado per esempio nella documentazione di Sphinx e vado a vedere qua, restrutture test, bar down, configuration, templates, e il drive a trovare adesso tu. Ecco, ecco qua, ecco qua, ecco qua, sì, ecco qua, regole per esempio, no? E quindi qua c'è tutta una serie di regole, alcune delle quali sono state sviluppate apposta per Sphinx, no? E quindi ci sono delle, insomma, io ne ho elencate, nel progetto ne ho elencate qualcuna che sono sicuro che risulteranno utili perché vi faranno risparmiare un po' di tempo su alcune cose, no? Però qua c'è la pagina di riferimento con tutte e anche tutte le direttive, no? Come vedete, top 3 è una cosa tipica di Sphinx, eccetera, ma ce ne sono altre, note, warning, quindi se voglio mettere per esempio una nota e quindi un'indizzazione diversa, un warning e avanti così, insomma, ecco, no? Si, olso, poi sono tutti i riferimenti incrociati, tutti i riferimenti per l'indice analitico, il glossario, ad esempio il glossario vi faccio vedere dopo, ok? Bene, allora, e quindi queste sono le cose, bene, adesso arriviamo alla terza pagina della cosa che va a chiudere tutto, quindi vi prometto che in dieci minuti la chiudiamo la storia e quindi dopo possiamo passare alle domande e risposte, allora, dicevamo, eccolo qua, ecco, vabbè, qua c'era da dire appunto come si fa a integrare Markdown dentro nei progetti, allora, bisogna andare a modificare un file di configurazione, il file di configurazione è questo qui, cioè se io vado qui nel mio progetto di Sphinx prima, no? Ecco, c'è in tutti i progetti Sphinx, c'è un file che si chiama, si chiama, aspetta, eh, che si chiama conf.py, quindi configuratore di Python, no? E lui lo prepara già, di fatti se vado a vederlo qua, io anche qua c'è un conf.py, e questo è quello di default, cioè qui non è stato cambiato niente, lui ha solo scritto che lo voglio in italiano, eccetera, eccetera, no? E come si chiama il progetto, eccetera, eccetera, quindi questo qua è quello di default. Invece questo è quello che io ho configurato, ho fatto qualche modifica, no? E quindi se io vado a vedere qui, no? Per esempio ho aggiunto delle estensioni, ecco qua, qua gli ho detto, guarda che io voglio anche usare Markdown, e quindi per usare Markdown ho dovuto usare un'estensione, come è spiegato anche qua sopra, eccolo qua, quindi qua, no? Quindi devo installare il modulo Python che legge Markdown, che lo avevamo fatto prima, ecco, devo aggiungerlo all'estensione, e devo dire che in base a suffisso lui riconosce il tipo di testo, no? Ok, ecco, quindi qua, per esempio, ecco qua, qua nelle estensioni, no? Io qui vi spiego un po' di cose. Ecco, questo è carino, RST Epilog, no? Dicevamo prima, vediamo un po' se, eccolo qua, ma questo era il primo, ah, eccolo qua, no? Dicevamo che io qui, nelle, nelle, tutte le pagine, ho messo, ho messo il creative, il logo di Creative Commons, come ho fatto a farlo? semplicemente così, sono andato qui, nella, nella cosa, e gli ho detto questa roba qua, cioè io qui ho RST Prolog e RST Epilog, che mi permette di aggiungere in tutte le pagine RST, ma non Markdown, un Prolog, e quindi un testo che va sopra, è un epilog, cioè un testo che va sotto, e di fatti è quello qua, dove io ho messo l'immagine del Creative Commons, no? Ecco, e poi ci sono queste qua, che sono delle regole, delle direttive di trasformazione, cioè io, se voglio, per esempio, che in tutte le mie pagine, quando mi riferisco al mio sito, voglio che venga trasformato in example.com, no? Io posso farlo, cioè in tutte le pagine posso mettere, mettere example.com, e poi la prima volta che cambierò, basta che vado a cambiare qui, lui me lo cambia in tutto, dappertutto, quindi come una variabile sostanzialmente, no? Ok, e quindi questa cosa qua, perciò, ecco, e altra cosa molto importante della cosa sono i temi, che adesso vediamo un attimo a che punto eravamo rimasti, eccolo qua, eccolo qua, quindi abbiamo visto, ah, ecco un'altra cosina, tanto per dire, no? Ecco, diciamo, ecco qua, io ho trovato questa cosa qua, sulla configurazione, questa cosa, Smart Quotes, ovviamente, tutta questa roba qua, io la trovo nella documentazione, vediamo se la trovo qua, beh, comunque nella documentazione di Sphinx, eccolo qua, se vado qui, e vado su Configuration, no? Ovviamente qua c'è tutto, no? Anche con delle specifiche in base al formato di output, insomma, c'è tutta una serie di cose, un po' che è detto, vabbè, un po', ah, arriva? Sì, eccolo qua, no? E quindi qua ci sono tutte le varie cose, no? Ecco, questa è una cosa che risolve una cosina fastidiosa, no? Qui, questa cosa, ah, ecco, per esempio questo qua, Auto Selection Label Max Dict, no? Questo qua per esempio, di default, quando ho le sottodocumentazioni, no? Mi dà la profondità di due, come si dice, di due livelli di profondità delle intestazioni, no? Se voglio aumentare, uso questo comando, no? Oppure questo Smart Quotes, questo risolve un problemino, perché se io scrivo, per esempio, un po', no? Lui di default mi fa le Smart Quotes, e quindi mi mette il doppio apice invece dell'apice singolo. Se io voglio invece che lui mi scriva, me lo scriva come voglio io, tolgo le Smart Quotes, no? Poi l'ultima cosa è il tema HTML, come abbiamo visto qui, Eccolo qua, no? Nel nostro file di configurazione, questo è quello del progetto che voi avete già pronto, no? Per vedere, no? Allora, io qui ho fatto l'import del tema Sphinx Read the Dock, no? Che è quello del sito che avevamo visto all'inizio, no? E quindi, io prima l'ho scaricato con PIP, poi l'ho importato, e poi qui a un certo punto gli ho detto, eccolo qua, gli ho detto che voglio usarlo come tema, e quindi io posso qua, posso scegliere il tema che preferisco, no? Ecco, posso dargli i percorsi dei dati statici, posso dargli il percorso di output, e poi per ogni tipo di output che genero posso scegliere, posso dargli dei parametri di configurazione e così via. Ok. Ah, ecco, l'ultima cosa è, ci sono due altri argomenti, gli ultimi due, che sono la documentazione di Python, no? Allora, diciamo che Sphinx nasce per documentare Python, quindi se io ho un file Python, qui ho scritto un piccolo script Python che fa proprio zero, non fa niente, quindi c'è una classe, è solo, che ha solo la documentazione, e poi c'è una funzione. Ok. Allora, io semplicemente, qui nella mia pagina, adesso vediamo se la trovo, scusate, dov'era? Ah, Python Docker St. Ah, eccolo qua, eccolo qua. Come vedete, io qui, la documentazione di Python, no? Ecco, c'è questa direttiva che è Automodule MyLib, no? Ecco, se voi andate a vedere nella documentazione delle direttive, c'è una pagina enorme che spiega sta roba qua, no? Ma io ho preso questo qua che praticamente fa, gli dico, boh, non mi rompere scatola e documentami tutto. Il risultato è questo. Ecco qua. Se io adesso vado a documentazione Python, ecco, come vedete, no? E quindi questo è veramente interessante per chi programma in Python, no? Perché praticamente io qui, diciamo che solo scrivendo quello, lui mi dice che mi ha messo questo testo qua, che è il testo che io avevo qui, nella documentazione... Ah, aiuto. Allora, qui, vedete? Questo è l'esempio più semplice possibile di un documento in Python. Questo è l'esempio più semplice. E poi, MyLib è only, ok, no? Dopodiché, qui sotto ho la classe con la documentazione della classe, la funzione con la documentazione della funzione, e il nostro sempre Creative Commons al piede, e questo è invece, questo è l'epilogo e questo è il prologo. Da ultimo, se proprio non riuscite a trovare quello che vi serve, ve lo potete fare da soli, perché l'ultima cosa è le estensioni di Sphinx. Ci sono diverse, molte estensioni di Sphinx già pronte. Vediamo se magari riesco a trovare qualcosa, giusto per... Andiamo su PyPy, così vediamo, giusto per capire. Allora, io ecco, PyPy. Eccolo qua. Se io qua vado a cercare Sphinx. Ok. Bene, come vedete ci sono 4.000 progetti che comprendono Sphinx, quindi sicuramente ci sono tanti moduli, diciamo, aggiuntivi, no? E nella documentazione ovviamente c'è tutto quello che serve per farsi le proprie estensioni, quindi se non trovate quello che vi serve, ma ripeto, cioè dipende da quello che dovete fare, insomma. Io spero di avervi spiegato che effettivamente è uno strumento produttivo da subito, no? Però effettivamente se uno dice, eh no, io quella roba lì la voglio come la voglio io, è uno ha tutto quello che serve per farsi le proprie estensioni. ci sono ancora due pagine, il glossario. Glossario, diciamo, che è molto facile da fare, no? Se io vado a vedere il sorgente della pagina, come vedete, no? Io ho una cosa qua, ho questa direttiva glossary, e tutto quello che è indentato sotto il glossario diventa glossario. In questo caso gli ho detto sorted, e quindi lui li mette in ordine alfabetico. Ok. E quindi questo è il glossario. L'ultimissima pagina, ho messo un po' di risorse, eccole qua, ci sono un po' di siti, Ugo, San, Metalinguasi, Sphinx. Questo è, visto che c'ero, è la foto del corso Python che abbiamo ottenuto, molti di voi, alcuni di voi hanno partecipato, e infine c'è il riferimento al PNLU, dove trovate tutte le informazioni. Direi che ho finito, se volete possiamo aprire i microfoni. Eccomi qua. Intanto, grazie Claudio. Ci sono alcune domande. Allora, l'averlo ottenuto alla fine è molto interessante, perché alcuni si sono risposti fra di loro, e questo vuol dire fare comunità, e quindi sicuramente è una bella cosa. Alcune domande le hai risposto Camin facendo, tipo con cosa è scritta la documentazione di Python che chiedeva Andrea Piovesano e ha risposto poco fa. Sempre Andrea ci chiedeva se la tendenza è MD o RST. Ti ho spiegato che avvengono, nasce prima RST, poi nasce MD, giusto? Sì, sì, è vero, però, diciamo, siccome MD è quello che è stato adottato dal mondo JavaScript, no? Direi che è molto, molto più diffuso. Diciamo che, ed è un peccato, perché RST sarebbe più performante, però forse soffre un po' dalla documentazione che è un po' un po' criptica, forse, no? Cioè non è molto lineare, pochi esempi e così via, insomma, no? Però in realtà per fare cose semplici è molto semplice, ma alla fine la verità è che, diciamo, RST rimane dentro la nicchia di Sphinx sostanzialmente e di Python. Allora, poi abbiamo parlato degli editor e sulle notte trovate un link che mi è stato passato in privato dove trovate alcuni editor per Markdown, e quindi se risolve la vostra curiosità. Invece, Michele fa ben due domande. Una chiedeva se si possono indicare attributi al tag di RST o Markdown che poi possono essere utilizzati su HTML. Sì, c'è la possibilità. Allora, Markdown ha proprio la possibilità di inserire direttamente del codice HTML al proprio interno e di solito, perché, ecco, diciamo che mentre RST è più quadrato, nel senso che ha una sintassi un po' più definita, Markdown invece ha delle implementazioni anche abbastanza libere. Comunque, genericamente, si può inserire del codice direttamente HTML. RST non ne sono sicuro, ma credo che anche con RST si possa includere del codice HTML diretto. E quindi, per esempio, se voglio usare una classe CSS particolare per un determinato coso lo posso fare. Anche lì, diciamo, non abbiamo parlato, io in realtà non l'ho neanche visto, ci sono i temi e c'è la possibilità di modificare i propri temi. Tanto è vero che, ad esempio, qui se volete un esempio di un tema Sphinx modificato, se andate a vedere la documentazione di Sphinx stesso, come vedete... Adesso non riesco a trovarlo. Comunque è basato su un tema modificato, quindi si può vedere come modificare un tema sostanzialmente. Ok. Poi sempre Michele ci chiede come si può convertire la documentazione creata in Flask, in RST o in Sphinx? La documentazione scritta in Flask sarà scritta in HTML e quindi con Pandoc probabilmente si riesce. E quindi io, per esempio, tanto per dire, io in Flask utilizzerò un, diciamo, il sistema di template Jinja, che è il sistema di template di default di Flask, quindi se io costruisco delle pagine e poi le voglio convertire, è probabile che Pandoc riesca a fare un buon lavoro, insomma, ecco, no? Sì, vedo Michele che sta scrivendo, no? Il routing. Ma diciamo che lì, praticamente, io quando dentro faccio un routing di Flask, costruisco l'HTML al volo. L'HTML che costruisco in quel momento lo posso salvare in formato HTML. A quel punto prendo il file HTML e lo converto con Pandoc. Roby, se vuoi, diciamo, quando sono esaurite le domande, passiamo al brindisi finale, nel senso che tu apri tutto e chiacchieriamo un po' tutti assieme, se si può, non lo so. Sì, certo. Prendiamoci qualche secondo se c'è ancora... Qualche domanda, sì. Qualche domanda o se tu volevi ritornare, visto che abbiamo ancora... La sessione doveva chiudersi alle 22.30, se vuoi rivedere o approfondire un qualcosa o se sei cotto abbastanza da... No, beh... Ah, ecco, beh, ecco, al limite vi faccio vedere una pagina qui, qui. Allora, come sempre nel progetto GitLab, no? Trovate il progettino di prova che ho messo, no? Qui dentro ci sono due pagine. Questa, questa pagina qui... Allora, questa qua è una sessione di secondo livello, cioè praticamente io qui ho l'indice generale che mi rimanda alla sezione 1 e dentro nella sezione 1 io ho un index e due pagine. Nella... Questa pagina è un'interessante perché qui ho messo alcune cose, no? Per esempio, qui ho messo ho messo delle direttive vedete qui sotto ho messo la direttiva, no? Che section verrà rimpiazzato con sessione 1 e quindi se io poi con questa sintesi qua ottengo un sessione 1 difatti se vado a vedere questa documentazione qui eccola qua vado nella home page eccola qua l'indice della sezione 1 vado sulla pagina 1 come vedete io qua trovo scritto trovo scritto sezione 1 mentre invece io qui avevo scritto avevo messo questa direttiva no? e così via, no? Poi ad esempio qui ho messo un'abbreviazione OS Operating System no? quindi se io qui ho OS se io mi avvicino vedo mi fa un un pop up come ho scritto Operating System mi dà il questo è quello è quando ho compilato l'ultima volta no? oggi è today ok poi c'è e quindi voglio dire qua ho messo alcune cose poi per esempio qui ho messo dei commenti e quindi diciamo che ripeto trovate qualche cosina che vi permette di organizzare le cose insomma quindi così bene forse qualcuno mi sta scrivendo ancora qualcosa ah ok gli utenti parlano fra di loro va bene Stefano se ci sei sblocchi tu la la rom per tutti si ci provo se qualcuno dovesse per sbaglio essere buttato fuori può rientrare tranquillamente si spero che si sia seguito abbastanza bene cioè non si no? allora problemi di flusso o di di rete assolutamente no ehm anche anche tutto anche l'audio è stato chiaro tutto il tempo quindi nessun problema va bene sì direi che anche la registrazione può concludersi ok quindi perché adesso adesso gli utenti che vogliono prendere il microfono basta che clicchino sulla cornetta blu o grigia e rifanno il processo di attivazione dell'audio attivando il microfono che toglie che 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 Grazie.